Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Estretto alla tua mano materna, guido ora tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa Volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Padre nostro chi sei? ecce voi... Di cieli... Liberaci da questo male... Padre... Tu öfri e amore... Venga il tuo regno, il tuo supremo volere, la volontà sua, Vero sempre in te, tu e me, come un cielo così in terra, come un cielo così in terra. Padre, ti canto una maghera, quello che tuo figlio ci ha insegnato per amore, noi ti compri, ti chiamo. Noi ti glori, ti chiamo. Amen. Il libro di cielo, volume 24, 29 luglio 1928, significato della benedizione e del segno di croce. I miei giorni si rendono più amari e lunghi per la privazione del mio dolce Gesù, le ore sono secoli, i giorni non finiscono mai. E mentre faccio i miei soliti giri nella creazione, voglio e li invito tutti a piangere colui che, involandosi da me, mi lascia sola ed abbandonata nel mio duro martirio, di vivere come se non avessi vita. Perché colui che formava la vera mia vita non è più con me. E perciò nella mia amarezza chiamo il sole, perché piangesse lacrime di luce per intenderire Gesù, perché ritorni alla sua piccola esiliata. Chiamo il vento, perché faccia lacrime di gemiti, di urli, e col suo impero impetuoso assorda l'udito di Gesù, affinché lo pieghi a farmelo ritornare. Chiamo il mare in mio aiuto, affinché tutte le sue acque le converta in lacrime, e mormorando lacrime e tumultuando con le sue onde, faccia tumulto dentro il suo cuore divino, perché si decida presto a ridarmi la sua vita, il mio tutto. Ma chi può dire i miei spropositi? Cercavo aiuto da tutti, perché mi facessero ritornare Gesù, ma lui non veniva. Ed io seguivo il mio giro nella sua adorabile volontà, e seguendo i suoi atti che fece, stando su questa terra, mi sono fermata quando Gesù benediva i fanciulli, benediva la sua mamma celeste, benediva le turbe ed altro. Ed io pregavo Gesù che benedicesse questa sua piccola figlia, perché tanto ne aveva bisogno. E lui muovendosi nel mio interno, ed alzando il suo braccio in atto di benedirmi, mi ha detto Figlia mia, ti benedico di cuore nell'anima e nel corpo, e la mia benedizione sia la conferma della nostra somiglianza in te. Essa ti conferma ciò che la divinità fece nella creazione dell'uomo, cioè la nostra somiglianza. Perciò tu devi sapere che nel corso della mia vita mortale, in ogni cosa che io facevo, benedivo sempre. Era il primo atto della creazione che io richiamavo sulle creature, e per confermarlo, benedicendo, invocavo il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo. Gli stessi sacramenti sono animati da queste benedizioni ed invocazioni, sicché mentre la benedizione chiama la somiglianza del Creatore nelle anime, chiama insieme la vita della mia Divina Volontà, perché ritorni, come nel principio della creazione, a regnare nelle anime, perché essa sola tiene virtù di pennellare in essa al vivo la somiglianza di colui che l'ha creata, di farla crescere e conservarla coi vivi colori divini. Vedi dunque che significa benedizione? Conferma della nostra opera creatrice. Perché l'opera che noi facciamo una volta è tanto piena di sapienza e sublimità e bellezza che amiamo di ripeterla sempre. E se con la nostra benedizione non è altro che il sospiro del nostro cuore di vedere reintegrata la nostra immagine nelle creature ed è la ripetitrice della nostra conferma di ciò che vogliamo fare, il segno della croce che la Chiesa insegna ai fedeli non è altro che impetrare da parte delle creature la nostra somiglianza e perciò facendo eco alla nostra benedizione ripete nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi senza conoscerla, la Chiesa con tutti i fedeli armonizzano con l'Eterno Creatore e vogliono la stessa cosa. Il Dio vuol benedire e pronunciare le parole Padre, Figlio e Spirito Santo vuole dare la sua somiglianza e le creature la impetrano col farsi il segno della croce pronunciando le stesse parole. Pur avendo letto questi testi già almeno un paio di volte perché la meditazione, se non vado errato, diciamo così, inerisce la terza lettura di questi meravigliosi scritti devo confessare che non mi era rimasta nella memoria questa pagina molto importante di Gesù che parla di due aspetti oggi poco considerati a quanto pare nella coscienza dei fedeli ma un po' credo anche, almeno per quanto ne so in ciò che si sente, diciamo così nella predicazione dei ministri della Chiesa insomma nell'aria un pochino che tira anche all'interno del corpo ecclesiale per carità è chiaro che le benedizioni e segni di croce sono, come dice Gesù stesso inerenti la vita stessa della Chiesa cioè quando noi andiamo a Messa facciamo il segno della croce riceviamo la benedizione in ogni sacramento si fanno segni della croce la benedizione ecco però parte la comprensione particolare di questi gesti molto più importante di quanto pensiamo quanto qui Gesù oggi ci dice la presa di coscienza di essi servirà anche come dire a comprendere come detto in due parole più benedizioni riceviamo e più segni di croce ci facciamo più come dire cresce la vita della divina volontà in noi perché questo è il messaggio di oggi cioè è molto molto importante quello che che dice Gesù molto molto più importante di quello che pensiamo e proviamo a meditarci insieme allora il contesto il contesto è sempre questa solitudine di Luisa dipendente dalla assenza sensibile di Gesù sono infinite le volte che abbiamo considerato questo aspetto quindi non ci soffermiamo troppo ma a un certo punto diciamo così lei pensa a Gesù gira nella vita di Gesù si ferma in quel gesto no gli portavano i bambini perché li benedicesse questo è il Vangelo questo qui penso che conosciamo il Vangelo oh mi raccomando teniamo sempre presente una cosa importante abbiamo una piccola parentesi il Vangelo i Vangeli devono essere come dire proprio il cuore della nostra vita perché per quanto mi riguarda evidentemente ma questo è ciò che la Chiesa desidera da noi prima di conoscere gli iscritti di Guisa che sono appunto una rivelazione privata che aiuta a comprendere meglio la rivelazione pubblica come tutte le rivelazioni private ma non aggiunge nulla di totalmente nuovo altrimenti non potrebbe essere accolta diciamo così nella Chiesa certo esplicita alcune cose che sono tutt'altro che chiare approfondisce alcuni aspetti perché altrimenti sarebbe inutile se dovesse semplicemente ripetere una rivelazione privata ciò che già conosciamo è inutile che ci sia quindi come sappiamo una rivelazione privata il luogo che ha nella vita della Chiesa l'importanza anche che ha è che appunto esplicita alcune cose che nella rivelazione pubblica o sono un po' in ombra o ancora non sono venute in piena luce oppure le approfondisce da dei dettagli no? pensiamo per esempio un argomento su cui ho ho parlato diverse volte intendo adesso farsi un ciclo di catechesi il peccato originale la sacra scrittura afferma chiarissimamente che il peccato originale è stato commesso sia nel libro della Genesi che nell'epistolario Paolino che cosa è stato il peccato originale lì ci sono semplicemente degli indizi ci sono degli elementi alcuni reali altri simbolici cioè Dio non l'ha voluto rivelare pubblicamente in maniera esplicita cosa è stato il peccato originale d'accordo arriverà il momento in cui la Chiesa lo dirà io spero di sì d'accordo perché ci sono delle letture cioè delle letture delle letture nel senso di interpretazioni di questo episodio che risalgono ai padri della Chiesa e mica ad uno solo ad una schiera di padri della Chiesa che hanno cercato di riflettere e comprendere questa cosa d'accordo quindi e ci sono delle rivelazioni private che parlano di questo per esempio gli scritti di Maria Valtorta ora non dice nulla di nuovo la rivelazione privata ma il peccato originale è stato questo l'interpretazione di quei simboli l'albero della conoscenza del bene e del male erano nudi e non si vergognavano poi si vergognano la disobbedienza il frutto proibito eccetera eccetera l'interpretazione è questa è capito quindi questo è non dire nulla di nuovo ma è dire qualche cosa evidentemente che non è contenuto se non in maniera verata ecco allora quindi queste rivelazioni è evidente che si comprendono molto meglio ecco perché il Signore credo che ne abbia affidato io su questo questo è un punto che non è che voglio come dire tirare l'acqua al mio molino quindi con il dovuto rispetto per tutti coloro che che si occupano e che operano nell'ambito della Dina Volontà io non conosco neanche tante cose cioè non sono dentro tante dinamiche quindi io questa è una cosa che personalmente ho conosciuto qualche persona a me vicino mi ha detto guarda mettila in comune insomma non te la tenere per te rendila pubblica e ho fatto questo quindi non c'è nient'altro che questo così come riesco così come comprendo eccetera però certo che con il Vangelo alle spalle si capisce meglio qui per esempio Luisa ma anche i giri che faceva Luisa voglio fare i giri nei misteri della vita terrena di Gesù ma tu devi conoscere i misteri della vita terrena di Gesù i misteri della vita terrena di Gesù li conosci attraverso il Vangelo cioè l'annunciazione la nascita di Gesù la visita dei magi la presentazione al Tempio il ritrovamento nel Tempio il battesimo i 30 giorni i 40 giorni nel deserto la vita pubblica che Gesù benediceva i bambini che faceva durante la vita pubblica i miracoli la predicazione le parabole cioè queste cose la passione la resurrezione uno fa le ore della passione cioè è chiaro che le ore della passione approfondiscono tante cose che nei Vangeli non ci sono non c'è scritto in nessun Vangelo che Gesù un soldato gli ha aperto la bocca per sputarli in bocca mi si perdoni insomma questo purtroppo questo c'è scritto nelle ore della passione con cosa tanto dolorosa d'accordo però c'è scritto che è stato arrestato e che è passato sicuramente una notte in galera quindi questo c'è scritto sicuramente insomma ecco allora questo perché capiamo l'importanza anche cioè il Vangelo deve avere un posto d'onore nella nostra vita anteriore certo chi va messa tutti i giorni per esempio cioè non deve preoccuparsi perché lo sente tutti i giorni il Vangelo meglio ancora come spero in molti facciano se i miei confratelli specialmente parroci aiutano i fedeli con un breve non media di un giorno feriale sono cinque minuti no non è fatto una media né di dieci minuti né di quindici minuti no però è un piccolo aiuto che se un fedeli va messa tutti i giorni tutti i giorni se sente il Vangelo più una piccola spiegazione del sacerdote insomma poi alla fine il Vangelo gli entra insomma dentro il cuore no comunque chiuse queste parentesi però parentesi che secondo me sono opportune chiediamoci anche nel cuore no noi quando ascoltiamo il Vangelo in chiesa facciamo meccanicamente purtroppo tre gesti che tra l'altro sono di nuovo tre segni di croce meno male no il Signore sia con voi con il tuo spirito dice dal Vangelo secondo Giovanni e noi diciamo gloria a te o Signore ci facciamo un segno di croce sulla fronte sulla bocca e sul cuore che significa significa che il Vangelo desidero che mi stia bene dentro il cervello quindi che ci penso lo capisco me lo ricordo e lo voglio vivere nella testa ci stanno le facoltà spirituali d'accordo sulla bocca cioè il Vangelo lo professo non mi vergogno del Vangelo come dice San Paolo e sul cuore è la cosa per me più preziosa e più importante è l'oggetto sommamente amato sappiamo che in qualche apparizione la Madonna ma anche se non dicesse la Madonna lo dico io lo consiglio vivamente suggerisce di avere un luogo in casa dove si mette un libro dei Vangeli o una Bibbia circondata di onore quindi un leggio una candela vicino un'immagine sacra quindi un luogo che ci ricorda che la nostra vita vive della parola di Dio cioè scritta trasmessa dalla Chiesa e certamente poi anche approfondita da queste rivelazioni private ma noi viviamo di lui ecco e il suo primo atto molto prima di questo è stata appunto la rivelazione attraverso la Sacra Scrittura va bene mi fermo perché se no poi non meditiamo sufficientemente le cose più importanti allora Luisa quindi dice ah stai benedicendo i fanciulli senti dammi una benedizione oppure a me che ce la faccio più a stare senza di te in due parole questo è il contesto e Gesù dice come no certo ti benedico di cuore nell'anima e nel corpo e attenzione vedete che anche qui Gesù per capire bene questo episodio noi dobbiamo conoscere la Bibbia perché dice la benedizione sia la conferma della nostra somiglianza in te ti conferma ciò che la definita fece nella creazione dell'uomo cioè la nostra somiglianza adesso lo spiego questo passaggio ma chi ascolta indiretta o indifferita fermiamoci qua hai capito cosa sta dicendo Gesù con queste parole cioè ti conferma ciò che la divinità fece nella creazione dell'uomo cioè la nostra somiglianza che significa? allora se uno va a prendere i libri della Genesi il capitolo 1 e il capitolo 2 che sono i due racconti complementari e distinti della creazione si vedrà che appena Dio qualunque cosa Dio crea Dio vide che era cosa buona la benedisse la benedì poi quando crea l'uomo Dio li benedisse era una cosa molto buona Dio li benedisse gli disse siate fecondi e moltiplicatevi quindi che cosa sta dicendo la benedizione è stato nell'atto della creazione il suggello di ogni cosa che Dio ha fatto e nell'uomo li benedisse viene proprio affermato dopo Dio creò l'uomo a immagine e somiglianza di Dio lo creò Sto è Genesi 2 maschio e femmina li creò punto Dio li benedisse e gli disse siate fecondi e moltiplicatevi cioè subito dopo aver parlato della creazione immagine e somiglianza aggiunge Dio li benedisse capite perché la Bibbia è necessaria se no che abbiamo capito del testo di oggi ti conferma ciò che la divinità fece nella creazione dell'uomo cioè la nostra somiglianza quindi la benedizione sta dicendo Gesù implementa o meglio fa riacquisire perché che cosa è successo col peccato originale anche questo lo capiamo dalla sacra scrittura l'immagine di Dio in noi è rimasta l'immagine di Dio è indelebile non si può perdere ma abbiamo perso la somiglianza perché abbiamo perso la grazia santificante e come Gesù ci ha rivelato con essa anche il dono più grande che era la divina volontà quindi dopo il peccato uno non li assomiglia più a Dio attenzione assomiglia a Satana non assomiglia a Dio dopo il peccato anche dopo quelli che facciamo adesso dopo un peccato grave non si assomiglia più a Dio si perde la somiglianza allora la benedizione ripristina la somiglianza e Gesù dice nel corso della mia vita mortale qui chiamo in causa anche noi i suoi ministri io benedicevo sempre benedizione a tutto spiano ecco perché anche noi sacerdoti cioè i sacerdoti oggi spero che benedicano cioè al di fuori però dei gesti rituali della Santa Messa mica mica lo so cioè le benedizioni delle persone per esempio è vero che poche persone le chiedono ma sono importantissimi le benedizioni delle case le benedizioni degli oggetti la Madonna ha detto in un'apparizione molto famosa portate sempre addosso un oggetto benedetto non come segno di superstizione o come amuleto magico è importantissimo portare addosso un oggetto benedetto tenere in casa acceso una candela benedetta non sempre però accendere l'incenso benedetto cioè noi abbiamo tutte queste benedizioni si chiamano nella chiesa tecnicamente sacramentali e oggi Gesù ci dice attenzione la chiesa ha sempre saputo che i sacramentali sono cose bellissime e c'è sempre una trasmissione di grazia e di effetti benefici di accrescimento della grazia che hai e in particolare di resistenza e di lotta contro gli spiriti del male perché a questo servono le benedizioni protezione contro gli spiriti del male e capacità di resistere ai loro assalti ordinari con le tentazioni straordinari con tutte quanto le schifezze che fanno questi questi qui con tutte quante le maledizioni i malifici tutti gli impricci che fanno questi perché non è questi dormono tra poco arriva non voglio assolutamente sporcare le meditazioni sulla volontà con questo ma tra poco arriva quella vergogna ormai generalizzata istituzionalizzata ma non solo vergogna cioè quel rito satanico che ha Halloween purtroppo è anche qui una montagna di gente compresi i cattolici e compresi andranno a fare tutte quante quelle cose pensando irenisticamente e ingenuamente che è semplicemente una macabra carnevalata che ci speriamo che la possiamo fare che ecco prima che adesso non stiamo in lockdown quindi ci ripossiamo divertire un po' sto facendo purtroppo un po' di amara ironia non chiudo subito questa parentesi perché non è questa la sede opportuna per approfondire questa cosa però benedizioni 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 e attenzione Gesù dice la benedizione è la conferma della nostra opera creatrice anche e noi sappiamo che gli scritti della divina volontà e le rivelazioni della divina volontà hanno diciamo così una teologia della creazione come dire assolutamente prioritaria cioè Gesù esalta la creazione in tutti i modi possibili perché perché la creazione è l'opera massima della manifestazione della gloria di Dio e purtroppo quello che il peccato dell'uomo ha causato è stata un'alterazione sia nella creazione di sé che nella creazione così come la vediamo al di fuori San Paolo vedete la sacra scrittura ancora dice che la creazione è stata sottomessa alla caducità per volere di colui che l'ha sottomessa cioè l'uomo e nutre la speranza di essere anche lei liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio è San Paolo che scrive queste parole le sto citando a memoria quindi benedizioni e attenzione noi abbiamo una cosa fondamentale il segno della croce che cos'è? è un'autobenedizione a disposizione di tutti dice ma non c'ho un prete a disposizione oppure gli ho chiesto al parroco che se mi benedice mi ha risposto basta la benedizione della messa non mi fa perdere tempo speriamo che queste cose non accadano voglio sperare di no però per esempio la benedizione breve nella divina volontà quella con cui io chiudo ogni giorno la meditazione è che si può fare anche su una persona quando una persona viene a chiedere di benedirla che ci vuole ti benedico per aiutarti ti benedico è quella cosa che proprio Gesù evidenzia e si ricordi in un'ora della passione dice se la gente potesse sentire la mia benedizione la sentirebbero dovunque se sentirebbero ripetere ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti la benedizione è una divina volontà un pochino più ampia la forma lunga ma c'ha questa forma breve che dura 5 secondi se un società ti impone le mani e ti fa sta benedizione 5 secondi finendola con un segno di croce è tanta roba non è una cosa da niente insomma ma noi possiamo farci segni di croce allora oggi abbiamo imparato una cosa nuova dobbiamo fare gli atti attuali sì dobbiamo fare i giri per vivere una divina volontà sì dobbiamo fare le fusioni sì dobbiamo fare c'è una cosa facilissima segni di croce nella santa messa del rito romano anticola stupenda messa del rito romano anticola bellissima messa del rito romano antico c'erano 33 segni di croce che il sacerdote faceva durante tutto il corso della messa c'erano meglio ci sono perché la messa non è stata abrogata anche se adesso è stata limitata ma non è stata cancellata quindi è tuttora il rito straordinario della chiesa latina allora 33 segni di croce alcuni li condividono anche i fedeli che sono i segni di croce sulla persona altri per esempio sono rimasti anche nella messa nuova i tre fatti quando si dice questo è il Vangelo secondo X e si fa segno della croce sulla fronte eccetera i fedeli veramente ne fanno molto pochi perché fanno quello all'inizio e quello alla fine e anche il sacerdote adesso poi traccia un segno di croce uno solo sulle offerte e poi li hanno tolti tutti cosa mi avviso insomma non necessaria e a mio avviso sarebbe stato meglio non farla che male che fastidio ti danno i segni di croce i segni di croce possono soltanto fare del bene quindi tra segni che faceva il sacerdote su se stesso sulle offerte sul petto dappertutto sull'altare anche in una circostanza col Vangelo secondo Giovanni che si legge alla fine erano 33 ci sarà un motivo di vedere la sapienza della chiesa quando ci si trova dinanzi a queste cose la custodia della tradizione e del passato è una cosa a mio avviso importante perché non è che la messa non è nata così per esempio ci sono arrivati piano piano nel corso del tempo quindi cosa significa che nella coscienza ecclesiale e anche nella coscienza delle autorità ecclesiastiche di chi materialmente poi ha redatto le norme liturgiche dei papi che l'hanno approvata nel corso della storia è cresciuta la coscienza anche inconsapevole Gesù dice state attenti voi non lo sapete come quando diciamo il padre nostro ma quando ti fai il signo della croce e tu stai chiamando la somiglianza stai richiamando la somiglianza di Dio con lui e cioè stai chiamando la vita della divina volontà in te anche se non lo sai e non fa niente che non lo sai perché comunque la chiami comunque la chiami cioè non tutti sanno noi il Signore ce l'ha spiegato quando diciamo il padre nostro venga il tuo regno sia fatta la tua volontà cominciare così in terra stiamo invocando il regno della divina volontà sulla terra punto e basta è così non c'è niente da fare e se uno ci pensa non è tanto difficile perché la volontà fatta in cielo così come in terra cioè anche come dire vuol dire una volontà fatta in maniera perfettissima vuol dire che il cielo vive sulla terra vuol dire che viviamo il paradiso sulla terra vuol dire che torniamo nella condizione dell'Eden quindi se uno ci pensa però insomma certamente con questo aiuto che il Signore ci dà noi adesso lo sappiamo quindi quando diciamo il Padre nostro dovremmo dirlo insomma con con un fervore ancora maggiore perché stiamo stiamo chiedendo una cosa grossa al Signore no? quindi quando c'eravamo un segno di croce adesso sappiamo che stiamo è come se stessi facendo un atto attuale più o meno quindi quanti ne vai quanti ne vuoi adesso anche qui non è come devi stare a fare cioè io ho sempre pure dico queste cose che comincia dalla mattina alla sera sta tutto il giorno a fare segno di croce se fa 500 non lo so 10.000 segni di croce al giorno insomma no? anche perché è bene farli il segno di croce a differenza di un atto attuale che è un atto mentale un atto appariscente per cui attenzione pubblico i segni di croce si fanno quando è necessario cioè se io ho il rosario in mano e devo dire rosario in autos e mi devo fare azione della croce lo faccio senza nessun problema d'accordo? se io sto mangiando in pubblico al ristorante o in mensa e faccio il segno di croce prima di mangiare non solo che lo faccio questa è una grande testimonianza certo se uno ti vede per strada che tu stai facendo 40 segni di croce consecutivi chiama al 113 insomma non è che non sia una cosa buona fare 40 segni di croce consecutivi falli in camera tua però d'accordo? oppure in chiesa quando stai da solo e falli con fede quindi non come un gesto quindi sapendo che ogni segno di croce ogni segno di croce è un piccolo passo avanti nella somiglianza con Dio anche qui è concludo perché io devo sempre specificare perché continuano ad arrivarmi ne ho parlato nelle meditazioni precedenti delle notizie che spero che non siano vere ma gruppi della divina volontà che a volte ha anche qualche guida di essi che fanno delle letture delle applicazioni veramente folli dico ma dico ma possibile perché purtroppo ho detto 100 miliardi di volte la divina volontà è una cosa bellissima bisogna vedere come la recepisci e come l'accogli no? ecco quindi sempre meglio specificare non basta fare 30 segni di croce o 33 dice voglio fare i 33 segni di croce che si ricevano nella messa voglio farmeli sulla mia persona ah se qualcuno decide questo secondo me benedizione massima da parte di nostro signore potremmo anche farci se il nostro signore ce lo consente quindi con confine buono senza voler essere rispettosi 33 segni di croce al giorno levano il diavolo di torno va bene potremmo anche fare questo questo piccolo slogan così ce lo ricordiamo certo non è che ti fai 33 segni di croce e poi fai una vita come dire sgangherata pecchi dici le parolacce senza nessun problema no? teniamo sempre presenti così come i sacramentali sono una cosa che rafforza i sacramenti cioè non è che tu non ti confessi da vent'anni non vai mai in chiesa e poi vai e dice dammi la benedizione quante volte la fanno pure con me perché porta bene ma io te la do la benedizione perché la benedizione si può dare a chiunque insomma non serve lo stato di grazia per benedire una persona però non ti pensare insomma che questa cosa qua ah non vado cioè c'è una vita completamente sgangherata però se mi prendo la benedizione porta bene e mi sta alla larga la scalogno o i guai no? ecco quindi queste è sempre io ho imparato a specificare perché è meglio specificare perché purtroppo a volte in stessa cosa entra un po' in depressione no? perché uno parla parla condivide condivide predica predica poi qualcuno viene a dire che ha capito vischi per fiaschi cioè dici ma quasi quasi era meglio come stavo zitto se una persona da quello che ho detto deve trarne quella conclusione completamente strampalata è chiaro che non è meglio stare zitti però onde premunire insomma applicazioni distorte di quello che uno dice perché purtroppo noi abbiamo questo nemico interno che è la nostra volontà umana e che ogni cosa viene recepita a seconda di come è il contenitore come diceva già Aristotele omnia recipientur ad modum continentis e se uno ricepisce una cosa in maniera distorta quella cosa anziché fargli bene gli fa male è come quando uno si fa la comunione senza questa grazia di Dio la comunione è sempre dritta dalla parte sua ma se è storto chi lo riceve purtroppo quella cosa non gli fa bene quindi alla luce di questo cerchiamo le benedizioni dei sacerdoti anche qui in maniera cioè se un sacerdote sta uscendo dalla canonica sta andando a dare l'olio santo a una persona che sta morendo non gli chiede la benedizione in quel momento perché è vero insomma che bisogna essere disponibile trova anche il contesto no oppure se sta per uscire per dire la messa padre mi benedì trova un momento tranquillo ecco certo poi il sacerdote deve essere abituato ad essere disturbato però anche qui con grano salis cioè non in momenti non è che uno può mentre sto a fare la predica padre mi mandi la benedizione me la chiede dal posto sarebbe che capiamo no faccio esempi macroscopici per far capire però dentro questa cornice benedizioni e segni di croce ecco riscopriamone l'importanza oggi il signore ci ha detto non sono solo sacramentali della chiesa lo erano e lo resteranno sempre quindi cose già di per se stesse fuori ele di grazia sono anche strumenti di accrescimento della somiglianza con dio e quindi della vita della divina volontà in te tienilo presente e se credi in maniera certamente impegnata anche se con grano salis ribadisco mettilo in pratica un po' di un po' di un po' di bene un grandissimo grazie oggi diciamo al Signore per questa graditissima sorpresa è stata una graditissima sorpresa veramente oggi anche per me e mi aiuterà insomma a vivere ancora ancora meglio tutte quante queste cose grazie infinite Signore Gesù della Tua infinita bontà e sapienza con cui riportandoci al cuore delle Sacre Stritture ci fai comprendere anche il significato profondo e soprannaturale di alcuni gesti e quanto siano anch'essi importanti per chiamare il regno della Divina Volontà in noi bene per intercessione di Maria adesso la viviamo un po' meglio sicuramente la benedizione al termine della meditazione perché la viviamo come prima attuazione anche oggi di questa conoscenza nuova che il Signore ci ha donato e che custodiremo certamente nel cuore io questo difficilmente lo dimenticherò cercando di viverla e di metterla in pratica nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria